Questa qui è l'ultima cassata Dopo un lunedì si sta a fare un cazzo Guardate cosa faccio Si sta a fare un cazzo con la martina e la rotatoria Le casse della creative Del computer normalissime Cosa facciamo? Dai Attacchiamola con la batteria Dopo un po' di prove Aspetta ragazzi Prima fa vedere il bellissimo runner Guardatelo Tuning Niente da dire Rivaldi dal cazzo Prova tecnica Guardiamo se fanno Porca madonna Niente trucco niente in casa amici Volete fare anche voi Fate come cazzo mi pare Amici in questione vai Davide Gesù no perché è caduto Per venire giù Non lo sapete fare voi Non lo sapete fare voi No lo sapete vi Ma Grazie a tutti.